Ma qui com'era? No? Salve! Ha preso allora pesci? Si, ho preso del pesce Che pesce ha preso? Tutte trote Trote? Ma qui ci sono solo i merluzzi Cazzo al pesce a pescato lei, scusate Comunque... Che bel costume ... Ma come ti potrebbero arrestare? Come fanno a conoscerti? Eh, che cazzo ne so, sai? Ah, più vicino... Senti, dammi una tilinguacciata che sono tutta rapatico Madonna! Si arriva e corre Cosa hai fatto all'occhio, Dino? ... Ho usato un po', che fai Shenni? Ah, e te credo se schiaccio F? Invece che D ... Casco mettiamo? ... 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